N4 è un Caterpillar da 15 tonnellate 15 tonnellate, vogliamo fare un applauso ad Armando che adesso vi farà vedere cosa si può fare con un pezzo così pesante e davvero poco versante guardatelo qua, allora grazie allora avete problemi di spazio a caso, un giardino stretto dovete metterlo a posto Armando viene, su commissione entra due ruote, non me ne accorgete neanche perché naturalmente per i cartelli più piccoli ha il Caterpillar il Caterpillar, il Caterpillar, il Caterpillar, il Caterpillar, il Caterpillar, il Caterpillar piccolo 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 va bene grande Armando, intanto ce lo teniamo lì sullo sfondo Armando vi raccontiamo anche un po' di cose perché Radio DJ è presente al Motolive con il collegio di supporto di tutto l'evento noi tra i ventieri siamo qua sul palco vi tornerò la campagna prima domenica ovviamente ci atterneremo con gli speaker tecnici che invece entreranno nello specifico sulle discipline ci saranno qua al Motolive dietro a noi, dietro al palco ci ha posizionato il nostro studio eccoci